Ci troviamo all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte dove è in pieno svolgimento il corso di aggiornamento, governo clinico e percorsi diagnostico-terapeutici integrati, le reti aziendali. Con noi la Presidente del corso, la Professoressa Anna Maria Colau. L'importanza, Professoressa, di un evento del genere è il segno che può lasciare? Allora, intanto oggi nessuno di noi come individuo, come professionista, può pensare di raggiungere obiettivi importanti se non in un lavoro integrato con altri professionisti, cioè se non in rete. Qui parliamo oggi di una rete aziendale che è partita molto tempo fa, la rete dell'As Napoli 1, che è una delle più grosse asle che noi abbiamo nel sud Italia, probabilmente una delle più grosse asle italiane. Dobbiamo inserire questo concetto del lavoro di gruppo all'interno della nostra mentalità. Noi siamo tendenzialmente individualisti e tendiamo a portare l'accento su quella o quell'altra eccellenza. In realtà questo è un mito un po' da sfatare. Oggi con i progressi tecnologici non si può raggiungere davvero degli risultati di impatto e diciamo di competizione con i paesi anglosassoni se non impariamo a lavorare tutti insieme. L'importanza, dicevo, è il segno che possono lasciare questi eventi, questi corsi di aggiornamenti programmati. E' importante perché, come dicevo prima, c'è una tendenza all'individualismo. Quindi molti nostri colleghi, quando li chiamiamo a far parte di una rete, temono che la loro professionalità si disperda all'interno di questi contesti. In realtà la nostra forza è quella di essere tutti legati l'uno all'altro. Il successo dell'uno è il successo di tutti. L'insuccesso dell'uno viene mitigato dal successo degli altri. Quindi far parte di una rete è quasi totale garanzia che se anche, diciamo, ci sono momenti in cui l'obiettivo nostro personale non viene raggiunto, ma si festeggiano gli obiettivi che tutti gli altri stanno raggiungendo. Quindi è molto più di successo essere in una rete che non farne parte. Grazie. Grazie.